Se ti interessano i prodotti che utilizzo sia in puntata che nel mio quotidiano, puoi trovarli sul sito www.onemoretime.me. Se vuoi vedere contenuti inediti inerenti al podcast, puoi trovarli sul nostro profilo Instagram, onemoretimepodcast. Se voleste vedere invece contenuti che riguardano più la mia persona, vi aspetto sul canale Telegram attraverso il link in bio di tutti i nostri social. Io sono Luca e questo è One More Time. Diciamo che tante volte non vorrei essere tipo Tony F, ci sono giorni che voglio essere una persona normale, per dirti. Invece prima ero proprio tipo ogni giorno mi svegliavo e cazzo sono One More Time, capito? Invece adesso, non lo so, comunque prima ero più felice, ero proprio diverso, non so come dire, con il successo anche forse per come vedo gli amici, per come si relazionano a me, non lo so, mi sento più solo rispetto a prima, prima eravamo tutti insieme, eravamo tutti una stessa cosa. Allora, noi abbiamo rotto il ghiaccio, ma così, in palestra, dove sono venuto da te a presentarmi, ma proprio per ammorbidire la conversazione, perché io ti vedo col volto da bad boy, ma leggo nei tuoi occhi e sento un'anima super bella. E quindi oggi io voglio viaggiare con quella, vorrei conoscere la persona, vorrei entrare nelle emozioni, perché molto della tua storia l'hai raccontato, cioè in diversi momenti della vita, in diverse interviste, oggi mettiamo tutto insieme, partiamo dall'inizio, da quando eri piccolo, prima ancora che tu facessi l'attore a cinque anni per capirci sul momento preciso e arriviamo fino a oggi. Intanto come vuoi che ti chiami, Nicolò o Tony? Tony, dai. Bello. Oggi Tony, oggi mi sento Tony. Ok, allora partiamo dall'inizio. In che anno nasci e in che contesto familiare? E poi mi dici come eri messo a coccole. Nasco nel 17 maggio del 91 a Roma, famiglia normale. Figlio unico? Figlio unico, sì. Famiglia normale di lavoratori, insomma mio padre lavora da quando ha 15 anni, viene da una famiglia povera di Catania. Mia madre invece viene da Amatrice, un paese sopra Amatrice dove fanno la matriciana, insomma tra il Lazio e le Marche, sempre nel Lazio. Sono venuti a Roma quando mia madre ha perso mio nonno. Niente, mia madre era la sorella più piccola, erano tre fratelli, cioè mio zio, mia zia e mia madre. Ok. Che lavoro fa tua mamma o faceva? Mia madre faceva la cameriera. E tuo papà? Mio padre è l'orafo. Tutto ora? Sì. Ok. Che poi è diventato gioielliere ma fondamentalmente è orafo. Ok, significa che prima di venderlo fa il prodotto? Sì, è un artigiano. Fa lui? Sì, no, non la roba mia, alcune delle cose sì, non tutto però sì. Ok. Com'erano come genitori? Cioè che rapporto avevate? Perché io ho visto alcuni estratti dei tuoi film che hai fatto dai cinque anni in su e sei un'altra persona, ovviamente perché avevi cinque anni, però avevi proprio, eri il tipico bravo ragazzo che dove lo mettevi stava? Sì, sì, un bambolotto, sì. Non ridevo mai da bambino però ero comunque molto buono. Le coccole con i tuoi genitori vuol dire il rapporto con l'amore fisico. Come andava? No, non mi ricordo, cioè mi sembra bene, anche se mi ricordo mia madre era molto aggressiva comunque tipo, forse questa cosa l'ho presa da lei. Nel senso che ti menava? Non che mi menava però tipo, magari che ne so, esempio prendevo una nota alle medie o alle elementari, no? Poi andavo sempre a casa di un mio amico io, di Hermes, di questo mio amico. Sì. Perché mia madre tipo staccava dopo pranzo, quindi mi venivo, cioè tipo alle cinque mi venivo a prendere alle quattro e mezzo, non mi ricordo, quattro, quattro e mezza. Magari prendevo una nota, non lo so, la madre di Hermes ci diceva insomma hai preso una nota, non va bene, non lo so, insomma così colà. Invece mia madre tipo arrivava in cazza da nera, mi iniziava a tirare le cose, urlava come una pazza. E questo ti faceva paura nel senso ti applicavi poi o per ribellione facevi l'esatto opposto? Cioè che cosa suscitava in te? No, non mi applicavo, no, non mi applicavo. Cioè nel senso io ero molto intelligente a scuola, cioè se vuoi un esempio, magari non studiavo poi tipo il giorno che dovevo studiare che dovevo prendere quel voto lo prendevo, insomma, non so come dire. Ma avevi una, la soglia della tensione bassa, cioè perché non ti applicavi? Ti è entrata una ribellione, c'è un motivo per cui non ne avevi voglia? Non lo so, però ero, allora all'elementare abbastanza diciamo tranquillo, dalle medie in poi mi ricordo che comunque io ero molto piccolino, quindi sai alle medie magari andavi al parchetto dopo scuola fisicamente, non ti dico bullizzato, però magari quando facciamo giochi con le mani così sai ero un più... Ti mettevano sotto? Sì, ogni tanto magari sì. Perché eri piccolino come stazza? Perché ero più piccolo, quindi litigavamo, facevamo a botte, sai le cose da ragazzini e magari tipo mi bloccavano, no? Sai visto che io non riuscivo, quindi a un certo punto ho iniziato a mozzicare, sai queste cose qua. Cioè cercavi di difenderti come potevi? Sì, a un certo punto ho detto qua devo, cioè... Ce la devo fare, cioè devo uscire dalla giungla, se no mi massacrano. Esatto, esatto. Tuo padre che padre era? Dolce? Severo? Ma un tipico padre siciliano, poche parole, però insomma quando doveva dire la cosa... Cioè mia madre magari mi diceva, ah così, sì, sì, sai no? Invece mio padre diceva, oh... Cioè era molto, me lo faceva più capire seriamente, non so come dire, mia madre urlava, sai tipo... Questo lo devi fare, questo così... Quindi eri abituato alle urla e non le prendevi neanche troppo sul serio, mentre tuo padre parlava poco ma nei momenti giusti e stavi attento quando lo diceva. Sì, sì, sì. Chi decide di farti fare cinema a cinque anni? Hai voglia tu, lo chiedi ai tuoi? No, è iniziato che praticamente io abitavo, cioè abito in centro a Roma e vicino a casa mia c'è stata questa agenzia che si chiama C.D.A. che era di Carlo Verdone, o comunque ci lavorava Carlo Verdone e mia madre andava al mercato sotto casa, perché il mio è a Rione, no? Andava sotto casa, c'era il mercato ogni mattina e beccava sempre, incontrava sempre questa signora che lavora, questa ragazza che lavorava alla C.D.A. E ogni tanto andavo io al mercato con mia madre, ma ero piccolo, avevo due o tre anni e mi diceva perché non lo porti a fargli fare delle foto e poi ho iniziato a fare delle pubblicità proprio da piccolo piccolo. E due anni, tre anni così. E da lì poi ho iniziato, insomma. E fino a che età l'hai fatto? Pubblicità, comparse? Ho fatto 4-5 film da protagonista tra il 98 e il 2001. Quindi tra i 7, i 10, i 11 anni. Sì, sì. Prima facevo comunque comparse, anche doppiaggio, ho fatto un po' di tutto e ero molto bravo. Quando facevi questa roba, come ti sentivi rispetto ai tuoi compagni? Cioè, ti sentivi rivanitoso? Ti vergognavi che lo sapessero? No, però mi ricordo per esempio che andai a Gardaland con mio padre, mia madre e mio cugino. Avevo 12 anni e già mi chiedevano le foto là. E come ti sentivi? Mirabilandia a Gardaland. Ma non... Non ti faceva molta differenza? No, sinceramente no. Eravamo sulla scuola, no? Mi parlavi di essere bullizzato e a un certo punto quando sei bullizzato o ti centri... Non proprio bullizzato, però soffrivo questa cosa che se esempio c'era uno scontro fisico io comunque magari avevo la peggio. Ok. Ma quando cresci e succede questo, quindi o ti incattivisci e diventi ribelle perché vuoi dimostrare che invece quello che non avevi da piccolo, gli attributi ce li hai dopo. Diciamo che è stata una sorta di sopravvivenza, comunque magari andavamo al parchetto, sai, le prime canne, le prime cose da 13-14 anni. Quindi comunque era facile litigare, era proprio da ragazzetto giochi con le mani, cioè a Roma era così, tipo ci si picchiava. Per noia, poi non so per cosa così. Ok. Chi sognavi di diventare a quell'età, a 14 anni? Da piccolo il calciatore. 14 anni già... Ci giocavi? Ho smesso a quell'età perché ho iniziato a fumare, insomma fumare, andavo là, fumavo nei spogliatoi, facevo un po'... Era indisciplinato. L'ho iniziato a fare proprio tipo disastri. Ok. Però fino ai... prima dell'adolescenza tutto a posto. Anche dopo, non è che per cari donne che... Però ho iniziato un pochetto ad essere un po' più aggressivo, un po' più... Sempre nella ragione, mai nel torto, non so come dire. Cioè ti scatta l'aggressività nel senso di giustizia? Sì, sì, sì. Ok, quindi non lo fai mai su un debole che non ti ha fatto niente, ma lo fai sempre. Sei vissuto una sofferenza in un certo o qual modo perché la persona ti ha dato una frizione emotiva? Sì, diciamo che comunque sono cresciuto in un contesto tra virgolette abbastanza distra... Cioè comunque stavamo per strada in piazza, con gente più grande, quindi non è che potevi dire la tua. Quindi siamo cresciuti con questi valori e comunque bisogna sempre stare nella ragione. Anche in una litigata o comunque in qualsiasi cosa devi stare nella ragione, non puoi mai stare nel torto. Fino a 14 vuoi fare il calciatore, poi quando smetti di fare sport e fai quella vita, diciamo, da parchetto, chi vuoi diventare? Perché un sogno ce l'hai sempre. Sì, diciamo che a Roma... Un mito ce l'hai sempre. Un vero e proprio mito no, però a Roma magari, esempio, c'è la più figa del quartiere, comunque stava con magari quello che si facciava, non so come dire, no? Con la macchina bella o col calciatore, comunque insomma con un certo tipo... Quindi prendevamo molto quello come esempio, comunque vedevamo il ragazzetto che magari era quello che vendeva più forte di tutti, col Mercedes, con l'orologio, con la figa, no? Con la roba là, quindi avevamo quell'esempio che poi... Cioè quindi la meta era... Mi hai parlato di due persone abbienti nel senso facoltose, una in una strada diversa dall'altra, e quindi una facendo un lavoro legale, il calciatore, e l'altro facendo un lavoro illegale, lo spacciatore o qualsiasi altra roba. Però tutti e due attiravano l'attenzione della donna bella e il tuo obiettivo era quello. Sì, non la donna, ma insomma la bella c'è... La bella vita. La bella vita, sì, che poi... Andavano bene entrambe le strade o preferivi la strada di quello un po' più balordo? No, il calciatore mi è sempre piaciuto. Poi ovviamente ho iniziato magari ad allenarmi di meno, crescendo, a dire sti cazzi oggi non vado agli allenamenti, oggi fa un culo, capito, un po' così. Che vita facevi? Nel senso, la scuola vai fino al liceo, alla maturità? Vai fino in fondo? Sì, sì, l'ho fatto tutta la scuola, cioè tutta fino al diploma. Ti hanno bocciato? Due volte, sì. Quindi sei diplomato tipo a vent'anni? No, no, non ho fatto la... perché mia madre, insomma, vuoi andare a scuola, ti vuoi bagare la scuola, la paghi con due soldi, poi era questa la cosa. Quindi alla fine, con i soldi che avevo messo da parte dei film, mi sono bagato la scuola paritaria, che non è privata, era tipo un'avia di mezzo. Che rapporto hai con i soldi, visto che oggi ne guadagni ovviamente più di quando eri un bambino? Li metti da parte? Allora, quando ho iniziato a fare i miei primi soldi, eravamo, diciamo, io e un altro mio amico. A che età? 16, 17, insomma. In che mondo facevi quei soldi? In qualsiasi mondo, cioè, magari il sabato sera non c'avevo i soldi, andavo... Mi ricordo questa scena che sono andato a Campo dei Fiori, c'era questo pub dove andavano tutti, dove c'era anche Arturo, il ragazzo che cantava con noi Dylan, Side Pilots. Side, certo. Andavo, noi eravamo un po' più grandi, andavo là col motorino, il ragazzo andavo a prendere l'erba, chi è che vuole l'erba? Io, 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 magari facevo questa, quella, facevo una canna, tipo, ma chi è? Così, adesso andavo a prendere chi è che vuole l'erba. Magari il sedio mi dava 50 euro, 50 euro Birex, 100 euro quell'altro. E lì facevi i tuoi margini? Acchiappavo 600 euro, andavo a fare serata così, capito? E poi il giorno dopo, eh no, ma che è successo, no? Sì, poi te le ridò, capito? Tarantelle, insomma. Ok. A proposito di Side, quindi, i ragazzi con cui, dopo ci arriviamo, formi la Dark Palo Gang, erano già tuoi amici nella vita? No, Wayne è stato il primo perché abitavamo nello stesso zone. Cioè, quindi prima di Arturo? Prima di Arturo, sì. Diciamo insieme, però Wayne lo vedevo più spesso. Ok. Arturo e Dylan li vedevo da ragazzini, ma non li consideravo perché erano… Cioè, tipo Arturo, sai, magari mi vedeva là in piazza, sempre con le scarpe nuove, sempre un po' così, mi diceva ma tu sei amico di quei? Cioè, cercava tipo di attaccarmi i bottoni, comunque erano molto tipo… Sì, sì, me l'andavo, sai, non gli davo spago, no? Che vedevo che volevano parlare. Poi dopo è nata questa cosa così, ma per caso proprio… Nasce nel 2014-2015, hai 23-24 anni? Sì, sì, sì. Però prima di quel momento che vita fai? Prima di quel momento è Tarantelle. Ok, sempre Tarantelle, anche dopo il diploma, stessa vita? Sì, 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 non ho mai lavorato un giorno, allora, ho lavorato un giorno da mia madre che la faceva la cameriera appunto in questo hotel che si chiama Hotel Columbus, stava al Vaticano. Ok. Sono andato una volta a fare… c'era questo rinfresco di gattinoni, mi sembra dalle 8 alle 2 di notte, c'era Gerry Scotti, Vladimir Luxuria, insomma un po' di gente famosa. Col fatto che era un giorno che lavorava, mia madre mi ha detto non ti compro il vestito da lavoro, te lo faccio prestare da mio collega, quindi c'avevo le scarpe 43, i pantaloni che mi stavano il doppio, il camicia tutto vestito male, con questi capelli tipo a doppio taglio proprio da quartiere. La gente mi faceva domande, questo è… io dovevo solo portare i piatti, no? Mi dicevano… era un buffet, però io giravo con i piatti, mi dicevano questo è al forno fritto, io non mi dicevano niente, quindi non sapevo niente, ho anche odiato proprio quella roba. 50 euro ho preso. E hai detto basta? E ho detto a mia madre non verrò mai più, piuttosto vado a fare un'altra cosa. Tua madre e tuo padre sapevano come guadagnavi i tuoi soldi? No, anzi c'è stato un periodo prima della musica, che poi fortunatamente la musica è stata diciamo una copertura, perché io ero molto infisso con le scarpe da ragazzino, quindi compravo ogni giorno scarpe, scarpe, scarpe e tornavo sempre con queste scarpe. Quindi poi è diventata… questa me l'ha regalata Nike, questa me l'ha data Alidas, questa me l'ha notata, capito? Ho iniziato a mascherare così. Quindi fai tarantelle fino a 23 anni circa? Sì, sì. Te la sei vista brutta in qualche momento, in quegli anni lì? Hai preso dei rischi? No, mi hanno arrestato un paio di volte, ma sempre solo per risse. E i tuoi lo sapevano ovviamente? Sì, 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 vabbè sì. Una volta da minorenne, una volta da poco dopo, 18 anni. Che rapporto hai adesso con i tuoi genitori? Vi sentite, vi vedete, li chiami, ti chiamano, se ti cercano ti trovano? Cioè come funziona? Allora, sì, loro mi cercano, cioè mia madre mi cerca sempre, comunque mia madre è tipo, tra virgolette, un rapporto tipo come se fosse la mia fidanzata, no? Ok. Cioè nel senso si offende, se non sai, una donna comunque. Nel senso che ti ama, è morbosa? Sì, è morbosa, io magari, col fatto sì che sto a Milano comunque c'ho da fare tante volte, magari sto in studio, mi chiamo a sto in studio, non la richiamo. Però no, mi ci sento, non molto, devo dire la verità. Comunque sono molto di poche parole. Come tuo padre? Con mia madre, sì, non so perché. Dicevo come tuo padre un po' era con te in casa, nel senso, come il suo carattere. Sì, 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 con i miei genitori sì. Come va? Tutto bene? Lavoro bene? Sto in studio, sto a fare il disco. Oppure è arrivata una multa, troppe multe. Nel senso sì, ho preso troppe multe questo mese, vabbè le pago io tranquillo. Cioè nel senso tutto un po' così. Perché te arrivano a Roma? Perché mia madre mi aiuta su quella roba delle multe perché è ingestibile. Ok. Ma se i tuoi genitori vi vedete tipo a Natale e ti dovessero abbracciare, ti mette a disagio o ti viene spontaneo? No, a disagio no, però sto un po' tipo come quando ti abbraccia la ragazza che non ti piace, non so come si, capito? Ok. Quindi stai rigido? A volte sì, a volte no. Però sei più rigido che... Partiamo dal mondo artistico, quindi ok, Tarantelle fino a 23 anni e poi siamo nel 2014-2015 e Fondate, Fondate parla al plurale, in 5 perché poi c'è un producer dietro. No, il producer viene, no, Luc viene dopo. Raccontami come nasce. Nel 2005 c'era un altro ragazzo che si chiama Bunger Salessio, nasce una sera a Briachi, torniamo a Wayne e va ad un microfono con delle cuffie montate, siamo tornati e io devo iniziare a dire cazzo dal microfono e tutti tipo no, è troppo figa sta roba, così da lì è iniziato. E come è cominciata? Nel senso, intanto chiedo a te, perché ovviamente non essendoci gli altri, quali erano i tuoi riferimenti musicali in quel momento? Ehm, una roba americana di Chicago, Chief Kiff, tutta la group gang, quella roba là, però il mio, comunque il mio punto di riferimento, diciamo che è sempre stato Arturo all'inizio, a Side. Ok, perché è quello che aveva la cultura più grande. Sì, 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 sì. Ok. Diciamo che lui, cioè lui non avrebbe mai pensato che io avrei potuto fare il rapper, no, quindi tipo era comunque una cosa, sia lui che un altro mio caro amico, cioè il mio migliore amico che poi ha fatto otto anni di carcere per una cosa che è successa all'inizio della nostra, quando io avevo sempre 18 anni, e lui faceva musica, lui aveva fatto una canzone e io lo prendevo in giro, cioè noi facevamo cose insieme, no, gli dicevo che cazzo, cioè stavo qua a fare le cose e mi hanno detto che a fare le canzoni, ma proprio io la vedevo come una cosa, anche i Club Dog li vedevo proprio, non so se era tipo un, quasi tipo un invidia, no, non li capivo comunque, dicevo questi, cioè li vedevo come dei, insomma un po' i rapper in generale, col fatto che stavo in strada, facevo altre cose e lo vedevo come un cretino, no, e invece poi ero io il cretino, sai quella cosa tipo di sì, quella deficiente, no, per me erano tutti un po' così, tipo io così valutavo le persone. Perché avresti voluto la loro vita e ti faceva rosicare? No, no, però tipo magari uno brutto, cioè brutto tra virgolette, un bandito, cioè tipo lo vedevo diversamente, uno che magari… Lo vedevi meglio? Lo vedevo meglio, magari uno che adesso, non so come dire… Ce lo rispettavi di più? Lo rispettavo, magari faceva meno soldi di uno che faceva musica, ma non lo so, non credo, ai tempi, però il rapper non era una cosa, un'opzione, non so come dire. Arturo mi hai detto che provava ad avvicinarsi a te, però lo gustavi un po' quando eravate ragazzini. Sì, da ragazzino c'era questa cosa, perché ero tipo, tra virgolette, il loro idolo, cioè ero quello che aveva la scarpa sempre nuova, che vendeva di più, avevo il motorino nuovo. Perché la misura era sempre chi aveva più dell'altro, era un po' questo la… No, perché io ero magari più grande di tre anni, quindi come io vedevo uno dei tre anni più grandi, magari loro vedevano me in quel modo, no? E come vi approcciate la prima volta? Come diventate amici? Mi ricordo che praticamente un giorno gli abbiamo dato della droga, da bambini, io e questo mio amico erano sempre 18 anni, 17 anni. Lui fece un casino, tipo, l'aveva usata, comunque non l'aveva venduta, ci doveva dare dei soldi che non ci aveva dato. Quindi un giorno lo becchiamo e gli dico, guarda, se non mi testi i soldi è un casino, cazzi e un mazzo, insomma. E lui li chiese al padre, mi ricordo che ci portò 1200 euro da pezzi da cento, che tipo io di… Cioè erano tipo strano vedere 1200 euro, dicevo minchia, abbiamo fatti i soldi, gli dicevo l'amico mio, no? E mi ricordo che poi in questa storia il padre fece il film Shalla, no? Non so se l'hai visto. Non l'ho visto, però ne ho sentito parlare. Più o meno è quella storia molto romanzata, sì, sì, però partiva da là la cosa, credo. Quindi da quel momento in cui ti dai i soldi vi cominciate a unire, vi parlate? No, lì avevamo un rapporto che comunque lui magari, ecco per dirti, per avvicinarsi a me, credo, questa è una mia opinione, per avvicinarsi a me magari mi diceva mi dà 5 grammi di quello, mi dà 10 grammi di quell'altro. Poi, non so, lui e Dylan hanno sempre avuto questa roba tipo di… Mi ricordo che uscì questo documentario, Roma Nefasto si chiamava. Sì. Super Deep, loro che fumavano il crack, che pippavano, che si facevano le pere di roba, super proprio tipo… Facciano graffiti, però era un documentario proprio vero, no? Mi ricordo che loro erano andati in fissa per sta roba e emulavano un po' quel personaggio là, no? E ci vedevamo sempre tipo in un bar vicino Piazza Farnese, vicino Campo dei Fiori, che andavamo sempre là. Io stavo tra Rionemonti e Campo dei Fiori. Ok. Cioè a Rionemonti avevo tutti i miei amici là di zona, poi però magari col fatto che già volevo un po' evadere da quella roba, alle 10 andavo a Campo dei Fiori, stavo tipo fino alle 3, poi alle 3 tornavo, c'erano quelli là in piazza, stavo là e me ne andavo a casa, no? Però comunque cercavo sempre di un po' di evadere, o di cercare del meglio, insomma. Come vi scegliete per fare la Dark Polo Gang? A chi viene l'idea di dire facciamo un gruppo? Forse a Dylan, forse dico cazzate, era un po' tutto molto confusivo. Però è venuto naturalmente perché già facevate robe insieme. Magari, che ne so, ci beccavamo, ecco appunto andavamo a Campo dei Fiori, magari beccavo io Dylan e Arturo, poi veniva Wayne, poi magari stavamo là, andavamo a Trastevere, poi, dai andiamo a casa mia che ho il microfono, mi sembra che nasce così la roba. Siamo andati, abbiamo detto cazzate. Poi non mi ricordo da come da uno scherzo è diventato lavoro. Eh questo ve lo capire. La roba non ce l'ho in mente. Il primo pezzo qual è? Il primo pezzo era di Arturo e Hypervenom. Ok. Hypervenom, se non mi sbaglio, non voglio di cazzate. Esce su YouTube? Esce su YouTube, sì. Ok, quindi partite con un video subito su YouTube. Sì, di Arturo e Dylan. Il secondo pezzo è mio e di Arturo. Oddio, non mi sa che sto di cazzate. Non vorrei un aiuto da casa. Quando tu dici mio e di vuol dire la scrittura? No, perché noi avevamo un gruppo d'Arpolo Gang, però magari usceva una canzone mia e di Arturo, sotto sempre d'Arpolo Gang, no? Ok, quindi non eravate mai tutti e quattro in quel momento a cantare, diciamo. Esatto, esatto. Ok. Che poi eravamo in cinque all'inizio, proprio all'inizio. Mentre invece Sicklyuk arriva dopo. Eravamo cinque che cantavano, senza producer, quindi cantavamo su type beat. Quindi, appunto, Hyper Venom era un type beat preso da internet e poi facciamo il video su YouTube. Ok. Come va il primo video su YouTube? Eh, numeri non me li ricordo, ma penso roba... Ma ti sentivi a disagio quando era uscito il pezzo o ti piaceva proprio quello che avevate fatto? Inizialmente, no, allora, forse sto di una cazzata perché mi ricordo che c'era questa cosa che inizialmente non ci facevamo vedere, quindi uscivano pezzi su YouTube. Ok. Cioè senza vedere i volti? Senza vedere i volti. Tant'è che sì, il primo video era per Venom, appunto, Dylan era molto coperto, aveva un cappello alla pescatora con cui si vedeva solo la bocca. Non voleva molto farci vedere all'inizio proprio. Poi dopo è andata su, cioè subito dopo abbiamo fatto il primo video, il secondo video comunque riprendevamo molto quella cosa di Chicago, Shif Kif, come ti dicevo. Parli inglese tu? Cioè nel senso capisci le parole di quei pezzi? Le capivi? No, no. Ti piaceva l'attitude? Sì, l'attitude. No, là non capivo nulla, veramente nulla. Già ecco, Dylan che è americano, mezzo americano, mezzo italiano lo capiva, Arturo già che ascoltava rap americano da tempo lo capiva. Io prima di ascoltare rap, diciamo il mio primo è stato 50 cent, però perché era moda a Roma, cioè quella roba l'ascoltavano tutti. Però ascoltavo molto musica tecno, tipo prima, roba tecno, cioè facevo festival, da minorenna partivo, andavo Time Warp, Awakenings, roba così, rap proprio zero. I vostri testi all'inizio erano molto crudi, no? Droga, molto molto crudi. Sì. Qual è stato il momento di svolta della Dark Polo Gang? Quali sono stati gli ingredienti vincenti? Ma prima degli ingredienti vincenti, quindi il vostro stile, cioè qual era la cifra stilistica che vi distingueva dagli altri, ma qual è il primo pezzo che ha fatto la differenza, ha fatto nascere il movimento? Parlo di movimento perché avete un po' sovvertito il momento della trap, cioè forse molti dicono che la trap è nata proprio con la Dark Polo Gang. Sì, abbiamo sempre avuto ognuno di noi, cioè per dirti io a Rione ero quello che si vestiva meglio, Arturo nella sua zona era quello più fighettino, Dylan uguale, Wayne stessa cosa, quindi avevamo qualcosa da dimostrare. che poi, che era nello spaccio, nella musica, nel fare scritte su muri, per quanto riguarda Arturo e Dylan, nel non lo so, qualsiasi altra cosa, avevamo qualcosa da fare uscire, che poi si è trasformato in musica, capito? Ma è stata una cosa che è capitata, appunto io non, prima di fare quelle prime canzoni non avevo mai provato a fare nemmeno dire cose sul microfono, comunque nemmeno ascoltavo musica rap, quindi è stata proprio una cosa così, a caso diciamo, per quanto mi riguarda, Arturo e Dylan già erano comunque molto più improntati sul fare il rapper, Wayne già a liceo aveva un gruppo semi rock, che ha fatto un concerto, mi ricordo, al Virgilio, quindi insomma già tutti loro comunque fottevano. Avevano quelle contaminazioni? Io proprio zero, zero di zero. Qual è il primo pezzo che spacca, che fa la differenza, che viralizza, usiamo questo termine, che arriva un po' a tutti, anche a quelli che non lo volevano? Forse sportswear. Ok. Forse sportswear, cioè diciamo, dalla nicchia, da quando abbiamo iniziato a fare i video, ogni video era, superava le visualizzazioni del video precedente, quindi già era un successo per noi, diciamo, cazzo, dobbiamo continuare, vuol dire che il video dopo... Però con sportswear la roba è andata proprio virale. Quanto spendevate per fare un video, prima di sportswear o compreso sportswear? Siamo stati molto fortunati perché appunto eravamo un gruppo di amici, noi cantavamo, poi c'era Alessandro che faceva i video, c'era un altro ragazzo, Tommaso, che ancora lavoriamo insieme, lui... Era il grafico, comunque ha fatto il 777, ha fatto il segno del simbolo della Dark, faceva la roba più fondamentale. C'era Betto e Vision che faceva anche lui video, foto, comunque eravamo un... Nel collettivo c'erano tutte, diciamo, le figure fondamentali per il prodotto. Eravamo veramente, a parte il manager, eravamo proprio super organizzati, non potevi fottere perché eravamo super organizzati. Quando esce sportswear che succede? Nel senso, da cosa capite che sono cambiate le cose? Fate, non so, una data, magari le avevate fatte prima, cioè qual è il termometro per capirlo che stava andando bene oltre le views su YouTube? Allora, prima di sportswear c'è questo concerto, il primo concerto che abbiamo fatto è a Roma. Dove lo fate? 30 persone, alla Dogana, che era praticamente... mio cugino faceva il DJ, mi dice guarda, avete a 600 euro, venite a fare il concerto qua. Dividevate sempre in parte e qua? Sì, 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 sempre è stato così. Anche quando c'è stato Luke che, diciamo, era il quinto rapper, cioè, solitamente il producer o comunque il DJ non viene pagato quanto... Nel vostro caso sì. Però in quel caso era comunque un componente importante quasi quanto... anzi sì. Quanto voi? Sì, esatto. Ok, quindi 30 persone alla Dogana? Sì, 30 persone, sì, una roba ridicola. E come vi sentite quando andate a fare un concerto e mette 30 persone? Ma io stavo là con il mio blunt, fumavo, cantavo, cioè, mi sentivo un figo. Ok. Oppure se c'erano 30 persone... Quindi l'hai vissuta benissimo. Dicevo, comunque ci stanno questi, cioè, capito? Non so, io la star, tra virgolette, no, cioè, siete voi che mi stavate a guardare? Qualcuno? 20, 30, 10, sempre mi stavate a guardare, capito? Gli altri avevano la tua mentalità, nel senso, nessuno si è buttato giù per il numero? Ma no, no, no. Nessuno si è scoraggiato? No, no, no. Perché era l'inizio di un percorso? Sì, eravamo contenti di aver preso 600 euro, comunque, diciamo, cazzo, 600 euro. Poi, la cosa brutta è stata che comunque, quando abbiamo iniziato, devi fare la cavetta, hotelle di merda, 5 dentro una stanza, 600 euro in 6, io comunque venivo da, cioè, nel senso, non so come dire, no, magari arrivavo là con 2000 euro cash e poi, cioè, quella roba la facevo non per i soldi, insomma, la facevo, dicevo, cazzo, più perché eravamo insieme, comunque mi divertivo, era una cosa figa, non vedevamo molto l'aspetto economico. Passo dopo, qual è? Dopo questo concerto di 30 persone organizzano questo concerto a Milano, a Lagarty. Quindi fuori zona completamente per voi? Sì, quindi noi da YouTube andiamo a Milano, diciamo, arriviamo a Milano e appena arriviamo, che c'era tra l'altro Sfera, Izzi… Parliamo del 2015? 2016, credo. 2016, ok. 200 persone, un pub piccolissimo, quindi un casino, un disastro e da lì ho detto, ma che cazzo, cioè, proprio siamo rimasti tutti, tipo, scioccati proprio. Però presi bene, in positivo? Sì, 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 dico, ma come è possibile, no, non so come dire. Ok. Mi ricordo, tra l'altro, che siamo venuti a Milano a incontrare Sfera. A che punto era della carriera Sfera in quel momento? Guarda, mi ricordo che io avevo… me lo ricordo troppo bene, quando abbiamo fatto Cavallini lui aveva 8000 follower e io ne avevo, tipo, 800 e lui mi fece una storia, taggandomi, e io presi, tipo, 500 follower e dicevo, minchia, Sfera, tipo… Ok. E mi ricordo questa roba che ci siamo incontrati la prima volta, c'era anche Tedua, lui Tedua e un altro ragazzo. In quella data lì? No, a Milano. A Milano mi siete beccati? A posta, sì, perché, tipo, Luc ci diceva, ma ci sta questa Sfera, guarda che spacca, andiamola a beccare, no? Dopo che abbiamo beccato Luc, perché Luc ci ha scritto, dopo Hypervenom su Instagram, ma spaccati così, da lì ci siamo beccati per non si offre abbansieme. Chi era il più PR di tutti e cinque a quel punto? Quello che organizzava, più che le collabo proprio gli incontri, ce le PR? Ma a quel tempo non ci inculavamo proprio nessuno, devo dire la verità, quindi… Cioè gli altri non si inculavano voi o voi non inculavate gli altri? Noi non inculavamo gli altri, dopo il successo di Sportswear. Prima di ciò, Luc ci disse, andiamo a Cestosfera, andiamo dai, sì, anche noi l'eramo molto tipo, sempre tipo, sì, sì, capito, no? Sai, sempre con questa strafottenza. Siamo andati là a Cinisello, ci bricchiamo con Sfera, così, mi ricordo che io avevo le Balenziaga già, a quei tempi, e lui mi disse, minchia bro, le Balenziaga, cazzo un giorno, proprio me ne ricordo, non me la riscorderò mai, stasera, mi disse, cazzo un giorno… Le vorrei anch'io. Le vorrei, le voglio anch'io, le Balenziaga, minchia. Quindi eravamo tutti con sta roba di convinzione, cioè, eravamo tutti… Di farcela. Di farcela. E mi ricordo che Sfera mi disse, eh, questa sera c'è un mio concerto, appunto, così, e noi abbiamo chiesto, ma quante persone ci sono, no? Perché noi avevamo fatto trenta persone, lui disse tipo, ma penso un centinaio, bro, così, e poi da lì abbiamo fatto Cavallini, a casa della nonna di Wayne, registrato a casa della nonna di Wayne, su un microfono, sulla carteggianica, si è registrato che abbiamo fatto il video là a casa della nonna di Wayne. Che è uscito subito dopo Sportswear? No, è uscito prima Cavallini. Ah, prima di Sportswear? Sì, infatti no, Cavallini è stata la traccia che… Che ha dato l'inizio della svolta, poi Sportswear ha dato quella grande… E poi Sportswear, diciamo, è stata la nostra consacrazione, però quando uscimmo con Cavallini con Sfera, il video uscì in esclusiva su Noisy e mi ricordo che erano solo insulti. Sfera andava bene, per noi solo insulti, ma che è sta roba, bla bla bla. Me lo ricordo il video di Noisy, dove voi leggevate i commenti negativi, mi ricordo che tu avevi un approccio molto, molto hardcore alla critica, nel senso che ti faceva proprio girare le palle e difendevi anche gli altri quando… Sì, perché allora c'è stata quella cosa che… è iniziata quella cosa che eravamo ricchi noi, perché eravamo del centro, forse anche… Che dicevano che tu eri figlio di Notai, no? No, io gioielliere, sempre gioielliere. Perché mi ricordo che dicevano, ma sono tutti quattro figli di papà, sono figli di soldi, ecco perché hanno sti brand addosso piuttosto che… Sì, sì, la cosa era così, io poi non l'ho mai… nessuno l'ha mai smentito sta roba, però la realtà era un'altra comunque, ma non è che potevo dire che spacciava, insomma… Cioè, lo dicevamo, però non lo spiegavamo mai, insomma, sì, dice che sono figli di papà, vabbè, non era mai tipo una cosa… no, non lo sono perché questo e quest'altro, capito? Sti cazzi, pensa quello che vuoi. Ok. Come cavalcate quello che accade dopo Sportswear? Nel senso, 30 persone, 200 persone con Sfera, cioè nel senso, in quel momento quando vai a Milano. Quando è che capisci che invece sta cambiando tutto, che avete un grande pubblico? Quello con… ma già dal 2016 comunque è stato sempre un andare avanti, quindi crescendo, crescendo, crescendo. Poi mainstream, diciamo dal 2018 con Cambiare Adesso, è stata la traccia più… per tutti, diciamo. Però a un certo punto voi vi separate, nel senso, tu hai parlato di Arturo prima, a un certo punto lui esce dal gruppo, nel senso non fa più parte del collettivo e poi dopo voi fate delle carriere soliste, ma prima della carriera solista questa amicizia, cioè ormai eravate qualcosa di… dormivate tutti insieme nella stessa camera, cioè avete fatto la gavetta nel senso… era anche bello, no? Quei momenti erano anche fighi tra amici. Perché si sfalda quella cosa? Vabbè, partiamo dal fatto che comunque stavamo tutti i giorni insieme, tutto il giorno insieme, quindi a un certo punto minchia ti odi. Questo dopo, molto dopo. Inizialmente era tutto a divertimento, comunque ci drogavamo, facciamo casino, la roba era molto rock. però ognuno aveva la sua roccia, nel senso, noi facciamo delle cose, Arturo ne faceva altre, no? Quindi… Parli a livello artistico? A livello, no, di sostanze. Ok. Quindi non… Nel senso, quando tu dici ci drogavamo, per quanto ti riguarda, intendi cosa? In quel momento, il momento rock? Cocaina… Alcol e canne? Sì, sì. Invece Arturo era più sui psicofarmaci, oxigotone, oppio, sai, roba un po' più… Ok. Noi eravamo l'opposto, no? E questo ha fatto cambiare i caratteri, la sopportazione l'uno e l'altro? Ovviamente, ovviamente, cioè, la droga fa male, cioè, nel senso… Ti cambia. Ti cambia, sì, a parte quello, ma… non la voglio dire come una giustificazione, ma un… cioè, noi avevamo molti esempi in quartiere, no? C'era quello che magari ogni tanto si faceva il weekend, no? Che comunque non era uno sfasciato, no? Cioè, era by perché è uno sfasciato e uno che lo fa tutti i giorni? No, lo vedi, cioè, nel senso, era ovunque uno che aveva un lavoro, no? Poi magari il weekend si vive ogni tanto, no? Ok. Comunque è sempre un tossico, per quanto mi riguarda, anche se lo fa una volta al mese, però diverso da uno che lo fa tutti i giorni o da uno che si fa di rovina, no? Ok. Cioè, proprio il livello di come lo vedi. Uno che magari ogni tanto fa uso di cocaina il weekend può arrivare, cioè, nel senso, ne esistono migliaia in Italia, anche gente famosa, comunque gente dello spettacolo, vattori di Hollywood che si drogano, ma comunque vanno in palestra, mangiano bene, non so come dire, no? O di uno che si droga e basta, no? Cioè, è diverso. Quindi, diciamo che Arturo c'è andato un po' più sotto con quella roba, quindi non può… cioè, lui doveva prendere le medicine, che poi era droga, e quindi era diverso, capito? Cioè, eravamo tipi di tossici diversi, come posso dirti, no? Sì, sì, ho capito. Comunque, lui non ci stava più dentro, capito? A livello di lavoro, di energie, lui era il più forte, però poi con le droghe ci è andato proprio, diciamo che non… Cioè, a livello artistico per te era il più forte? Sì, 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 sì. Cioè, era poco figo. Artista dentro. Artista dentro, bello, figo, tutto. E cosa fate? Vi mettete insieme, ci parlate e gli dite, ci prendiamo una pausa? No, 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 assolutamente no, perché comunque, anche sul fatto delle droghe, non è che gli potevo dire, guarda come stai, perché lui mi diceva, siete ieri, hai fatto quello, cioè, quindi non è che gli potevo dire, la droga tua è peggio della mia, no? Ovvio. Il vostro obiettivo era comunque aiutarlo? Sì, aiutarlo, certo. Però, mi ricordo questa scena, tipo, concerto a Praga, era tipo là il fatto che ci stavamo staccando, no? Lì, comunque gli animi non erano buoni, comunque noi stavamo sempre addosso a Arturo, tipo, guarda come stai, però minchia così, no? E lui invece di, magari di, cioè, comunque quella cosa la soffriva, quindi continuava ancora peggio, no? Quindi sempre live super fatto, proprio che non, fatto in un modo che non ci stai dentro, no? Il nostro tour manager ci organizza questa data, Wayne inizia a dire, non si può fare la data, gli faccio la regala, la dobbiamo fare per forza, perché comunque non mi sono mai tirato indietro, non ho mai saltato una data in vita mia, nemmeno con la febbre o con, mai. La gente che c'era a Praga erano italiani? No, 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 avevamo fatto una canzone con un rapper là di Praga, quindi facciamo questa data, noi partiamo insieme, arriviamo in aeroporto, Wayne e Parex fanno, noi non parto, viene Arturo, no, è inutile partire, lui iniziava a fare case, non partite, cioè tipo, minchia, ma, cioè, più a schiaffi, dobbiamo partire per forza, no, però, eh, no, no, ma andate a fanculo, parto da solo, ho preso se ho partito da solo a Praga e Arturo avrebbe dovuto raggiungermi con il suo tutore, tra virgolette, che gli aveva messo la madre. Ok. Arrivo lì, faccio duemila persone a Praga, faccio tre canzoni da solo, una follia, e nel frattempo gli dico a Wayne e Parex, cioè, minchia, piatto il primo, ero sbriato a venire perché tornavo a mazzo, davvero. Viene Arturo, completamente fatto dall'aeroporto, che non si sa, do cazzo, non riesco a capire questa cosa, con il tutore fatto, anche lui. Ok. E tipo, da lì ho detto, ok, da lì ho capito, tipo, c'è un mezzo detto, beh, qua non c'è speranza, non so come dire, no? Ok. E da quel momento decidete che è meglio interrompere? No, no, noi non abbiamo mai deciso niente, abbiamo sempre portato avanti la causa, lui a un certo punto si è allontanato, ecco appunto, questa è stata la cosa che mi ha fatto più male, che diciamo che noi abbiamo sempre cercato di aiutarlo, in tutti i modi, anche con le mamme, no? Però poi da quando lui si è allontanato, comunque a noi ci consigliavano sempre di non dire niente, come se non fosse successo niente, quindi tutti i fan poi hanno pensato che era colpa nostra, tra virgolette, non l'avete aiutato, quindi questa cosa mi mi ha un po' ucciso, cioè tipo, io comunque, ecco, se, glielo dico sempre a Arturo, se fosse andata diversamente la cosa, che io, ora come ora, stessi in un altro modo, economicamente, con la mia carriera, Arturo era morto, cioè gli ho detto proprio, adesso perché è andata bene, che io, ok, ho fatto musica, sto andando bene, sto spaccando, ok, ma se fosse andata al contrario, la prima persona che veniva a prendere di te, perché proprio tipo, ha rotto la cosa, capito, non so come dire, no? Quindi l'avrei ammazzato, cioè ce l'ho con lui, però comunque, col fatto che le cose poi sono andate bene, capito, sono tranquillo, no? Però comunque ce l'ho quella cosa. Mi siete mai chiariti soltanto voi due su questo, in modo tranquillo? No, no, no. Siete rimasti amici? Siamo rimasti amici, sì, gli ho un sacco di bene. Quindi non siete mai entrati in argomento, però vi volete bene e basta? Diciamo che era talmente tanto drogato che comunque non, come se... Non fosse lucido in quel momento? Sì, no, nemmeno gli posso dare delle colpe poi alla fine. Ha avuto una creatura, no? Sì, sì, sì. Quindi adesso penso che sia... Che l'ho conosciuta poi una settimana fa, non l'avevo ancora mai vista. Ok. Quindi penso che adesso, avendo avuto una creatura e tutto, abbia trovato un bellissimo equilibrio nella sua vita. Sì, 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 no, ma sta super. Ti sto parlando di tempi in bui. Adesso è in un momento positivo, fresco, bello, questo è bello. Quindi alla fine lui esce dal gruppo, avviene tutto in modo naturale, senza prendere una decisione. Sì, la madre, insomma, c'era un'attenzione, come vi dico, la madre comunque dava ragioni tra virgoletto a lui, non si sa di cosa. Noi dicevamo, regalo, non possiamo farci affonciare, comunque ho capito perché dobbiamo andare giù con lui, no? Ciao ragazzi, scusate per l'interruzione, mi tolgo le cuffie, visto che siamo un attimo out of the box. Mi chiedete spesso dove trovare i prodotti che utilizzo in puntata. Questa borraccia termica con dietro scritto tutto quello che è il DNA di One More Time e le magliette con le iniziali, in questo caso con le vostre iniziali, potete trovare tutte le informazioni su www.onemoretime.me. Questa cosa tra di voi ha creato delle tensioni? Sì, in quel momento Sik ci ha un po' voltato le spalle, comunque stava più dalla parte di Arturo. Diciamo che in quel momento tutti quelli che volevano distruggere la Dark si sono messi con Arturo, no? Cioè, come dire, era più una cosa adesso va app Arturo e la Dark va giù, cioè non so come dire, era questa la cosa che avrebbero voluto, credo, da come l'ho visto, non Luke. Però Luke comunque è stato l'unico, cioè l'unico, è stato quello insomma un po' più ingenuo perché lui comunque fuori dal mondo della droga e tutto, che pensava, che lui ha sempre pensato tipo che no ma ora ce la vedrai, vedrai, no? E io dicevo guarda che non… Cioè vedrai che Arturo ce la farà, tutto si sistemerà in quel senso? Si riprende, tipo no ma vedrai, io dicevo bro guarda che se non fa un percorso, cioè questa roba devi andare in comune, cioè devi fare un percorso, non è che tipo da un giorno all'altro non è così, cioè. E noi abbiamo deciso di fare insomma la nostra carriera insieme. Sik Luke se ne va o rimane ancora? No, Sik Luke già da poco prima inizia comunque a fare i suoi DJ set. Ok, quindi fa delle sue cose, diciamo, personal. Fa delle sue cose, quindi non viene più diciamo a fare i DJ set con noi, perché prima suonava con noi, poi col fatto che lui ha iniziato a dire comunque io mi conviene fare i DJ set da soli, bla bla bla, bla bla bla. A livello economico intendi? Sì. Ok. E ha iniziato a fare la roba sua e quindi noi abbiamo iniziato a fare i DJ set con Ludwig che è un altro ragazzo che adesso canta e prima faceva il DJ, cioè ha preso il posto di Luke insomma. Ok. E per quanto tempo rimanete insieme in quel modo? Dal 2018 fino al 2020 penso, sì 2020. Facciamo Trap Lovers, facciamo un altro mixtape e poi io decido di fare il disco, cioè poi decidiamo tutti insomma di fare ognuno il disco suo. Lo decidete perché capite che ormai gli orientamenti artistici sono un po' diversi, cioè perché prendete questa decisione? Beh è difficile lavorare in tre comunque, cioè perché poi quando abbiamo fatto Trap Lovers eravamo tutti e tre sempre sulla stessa traccia, no? Perché ovviamente se due cantavano uno non poteva stare fuori, non era più quella cosa di collettivo, no? Era più boy band, no? Quindi sempre insieme e comunque dopo un po' diventa anche a livello proprio di espressione se io volevo fare una cosa, no, dobbiamo fare un'altra cosa, se quello non volevo fare una cosa, io dicevo no, dobbiamo fare questa cosa qua, quindi comunque ognuno voleva fare la roba sua e è stata una cosa naturale, senza discussioni, siete rimasti amici tutti. Sì, sì, sì. Però la Dark Polo Gang come brand, come collettivo esiste ancora? Sì, sì, esiste ancora, certo. E come lo nutrite quel movimento? Beh adesso è un po' stoppato, però comunque è una cosa che… Quando tu dici esiste ancora vuol dire nessuno ci vieta di rifare delle cose insieme. Esatto, sì. Cioè non vogliamo chiudere il capitolo. Tra l'altro abbiamo anche un altro disco, un contratto se non erro. Ok, un album? Sì. Che dovreste fare entro che anno? Non c'è un anno, possiamo farlo anche a 90 anni, ma dobbiamo farlo. Ok. In teoria, cioè poi non possiamo neanche non farlo, però… E ti piace l'idea di pensare a una reunion a un certo punto, magari anche richiamare Arturo, cioè per come tutto è cominciato? Allora gli dico sempre, anche Arturo, gli dico sempre, regà, cioè quasi, c'è vi dovete dare da fa'? Cioè io comunque lavoro, capito? Sono lavoratore, quindi gli dico vi dovete dare da fa'? Cioè, che se no questa roba non succederà mai. Adesso entriamo su di te. 2020, diciamo che vi prendete una pausa e fate il vostro percorso, tu 2021 cominci la tua carriera. Sì, faccio uscire l'album nel 2021. La domanda è, cosa pensavano le major di te? Cioè nel senso, stavano puntando sul cavallo vincento e dicevano spaccherai da solo, cioè cosa si diceva prima che tu uscissi col tuo primo album? Che fallivo, cioè, tipo, era questa la cosa. Chi lo diceva? Gli ha detti ai lavori? Sì, sì, sì. E invece com'è andata? Bene. Bene? Cosa vuol dire? Bene, è stato l'album, tra tutti i nostri album, anche Dark Polo Gang è più venduto, quindi diciamo che ho superato quello che dovevo fare. È andato bene, è stato un tassello importante per la mia carriera. Non so, il primo album da solo, perché comunque io con la Dark Polo Gang ho fatto Crack Musica con Arturo, Twins con Wayne, Trap Lovers con Wayne e Pyrex, Dark Boys Club insieme e Untouchable è stato il mio primo vero progetto da solo, no? Cioè mi sono accollato proprio tutto e col fatto, cioè per me era un peso, non so come dire. Avevi paura di fallire con quel progetto o invece eri convinto, eri sicuro di te? No, sei molto sicuro di me, cioè io se voglio fare una cosa, cioè quella cosa è fondamentale. Cioè hai messo il 100%? Sono molto, cioè quando vado in studio con gli altri, con Sfera, con Lazza, cioè tipo io sto là, capito? Cioè nel senso molto umile. Ok. Con il fatto che faccio musica molto dopo, cioè capito? Se gli riconosci quel rispetto gerarchico, diciamo. Non gerarchico, però tipo, non so, mi sento meno artista di tutti, non capisco, che poi non è vero, però nella mia testa sì, nella mia testa sì perché sono il meno rapper dei rapper, capito che dico? Non meno artista, meno rapper dei rapper, insomma. Però questo ti dà un atteggiamento umile nei confronti degli altri, è anche bello, ma poi dentro di te hai le tue certezze, le tue sicurezze. Sì, ma poi zero umiltà, tante altre cose, però sul lavoro sono molto umile, molto molto umile. Però rispetto al ragazzo che tu mi hai raccontato di essere stato, il video di Noisy, quindi ho delle reference chiare nella mia testa, le tue interviste di un tempo, cioè sei un'altra persona, sembri il fratello maggiore, cioè sei molto più maturo. Vabbè, comunque c'è 32 anni, cioè voglio dire, ho visto tante, ho avuto, appunto ho fatto tante vite, l'attore, il calciatore, il bandito, il cantante, cioè non ho visto tante, non so come dire, mi sento pure vecchio, tra virgolette, cioè ho bruciato tante tappe. Tra l'altro è strano perché sono solo due anni che è la tua carriera da solista e sembra che tu lo facciano molto di più perché si sente parlare di te tanto, continuamente, nel senso che non so se è il personaggio... Beh, diciamo che sarebbe meglio che parlassero per la musica tante volte. Sì, sì, ma io alludevo alla musica. Alla musica, no, quest'anno ho fatto molto bene, cioè diciamo che mi sono molto... Io vado molto poco in studio, cioè nel senso tutti i miei colleghi vivono in studio, io per me è un lavoro, quindi faccio altro, poi devo fare la roba in studio, vado in studio a fare la roba, mirata, non è che vado in studio, così. Nel senso che quando è il momento in cui devi uscire, devi fare un singolo, un album, riesci a concentrarti, a stare nei tempi e ti viene l'ispirazione perché a molti non viene proprio così come un interruttore. Eh, me la faccio venire in qualche modo, comunque faccio tante cose, cioè vivo la vita, capito? Molti miei colleghi, tanti non escono, io comunque giro, vado da solo. Adesso vivi a Milano, giusto? Sì, sì, a Milano, da cinque anni. E come la vivi Milano negli ultimi anni? Cioè che fai tu dalla mattina alla sera? A parte che ci vediamo in polestra, mi alleno, sì, faccio sia box che pesi, diciamo che faccio molto la vita da, tra virgolette, calciatore, quindi mi alleno, vado in palestra, dieta, poi i giorni che devo andare in studio vado in studio, se no vado a giocare a golf. Parliamo dei soldi, no? Nel senso, quando è che comincia a crearti un capitale concreto? Da quando sei partito da solista? No, cioè nel senso, comunque guadagnavo anche prima, però sì, ovviamente la solista, tutto quello che prima era in tre o in quattro... E che pur dividendo era comunque un bel prendere. Sì, però era comunque un dividendo in quattro. Adesso guadagno di più, cioè tipo il mio valore è aumentato di quello che era prima la Dark, il mio solista, cioè più di quello della Dark nel complesso, quindi sia aumentato che sia diminuito il dividendo, quindi... Sì, sì, prendi più di quattro volte rispetto a quello che prendevi prima, chiarissimo. Esatto. E ritorno alla domanda che ho fatto all'inizio, com'è il tuo rapporto con i soldi? Cioè stai investendo, ti compri una casa, cioè li stai bruciando? Allora, la roba della casa, tutti, ti parlo in base a quello che fanno i miei colleghi, hanno tutti preso casa subito. Io lo sto prendendo quest'anno perché ho detto... A Milano? Sì, ho detto voglio prendere una casa, cioè voglio aspettare che ho quel tipo di soldi per prendere quel tipo di casa, no? Ok. Cioè non vorresti fare un mutuo, cioè vorresti comprare la casa... No, va benissimo anche il mutuo, cioè... Però vuoi potertela permettere a non essere tirato? Esatto, cioè nel senso magari un milione e mezzo di casa, mutuo, non mutuo, cioè una casa che ci posso restare, non so come dire, no? Che ci vivo bene. Casa, dove ti senti, a casa tua. Non senti più Roma, la tua casa per la vita futura o tu dici... No, Roma sì, sì, sì. Roma dopo, cioè quando, insomma, farò un figlio, do una grattatina e comunque mi sposerò, un'altra grattatina, quello che è, e... andrò a Roma, cioè 40... non 40 no, 50 anni Roma comunque tutta la vita, se non estero. Però non sono tanto per l'estero, dico la verità. Stai bene in Italia, nel tuo paese? Sto bene quando vado fuori, però poi voglio tornare, capito? Parliamo d'amore. Tu ti gratti quando dici di un figlio, ti gratti quando parli di una moglie. No, scherzo, scherzo. No, vuol dire che lo vuoi, lo desideri. Esatto, sì. Ti faccio questa domanda perché mi hanno detto che una volta ad un concerto di Blanco tu hai visto una coppia baciarsi e ti ha toccato delle leve dentro di te, ti ha emozionato, come per dire io voglio quella roba lì, ma non l'ho mai vissuta. Adesso non so se te lo sto riportando bene, ma rientriamo nel sentimento. L'amore vero, quello fisico, quello di cui parlavamo all'inizio, no? Quando dici ti amo, quando lo dimostri ogni giorno, ogni giorno, quando continuamente sei in quel flow vero perché lo senti dentro di te, quella cosa che ti emoziona. Tu dici che non l'hai mai vissuto, è così? No, 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 io sono stato innamorato. Forse pure troppe volte. Ma come lo vivi l'amore? Cioè, in verità non lo so, allora, non so se poi quello era amore o no, capito? Non riesco mai a capire questa cosa. Nel senso che quando vedevi quella persona, avevi le farfalle nello stomaco, quando discutevi con quella persona, non per essere possessivi, ma ti mancava? Sempre a periodi comunque, non mai tipo una cosa, capito? Continua. Sì, allora, il primo amore, comunque, prima che iniziassi a fare musica, appunto, con questa ragazza che si chiama Eleonora. A Roma? A Roma, che è stato tra il mio non essere famoso o diventare famoso, insomma. Ok. Lei è stato un proprio amore, sai, il primo amore, quindi quello molto... che litighi, cioè, quello proprio tipo vero, no? Non so come dire, il primo amore. Solo che per lei era una cosa nuova, quindi magari mi vedeva che facevano affatto con una fan, diceva chi è quella, molto gelosa, molto, molto, molto gelosa, anche perché era una cosa nuova, no? Comunque, cioè, la capisco anche. Però questa cosa, alla fine, mi ha fatto passare l'amore, mi ha fatto scappare, no? Cioè, ho detto non... Però, cioè, sono stato molto innamorato, stavamo sempre insieme. E questo è il primo amore. Poi con Taylor, sì, anche là, primo anno credo che sia stato amore, sì, cioè, tipo, prima che non scoprissi la persona, perché, attenzione, però mi aspettavo che fosse una persona, invece era un'altra, no? E quindi poi c'è stato il disinnamoramento, no? E il disinnamoramento vuol dire ci si lascia, ma poi siete tornati insieme? Sì, siamo sempre tornati insieme, più e più volte. Non so se per un... Perché speravi sempre che si potesse tornare come all'inizio? Non so se per quello o per una sorta di... è la cosa più facile in questo momento, tipo, no? Ok. Non so come dire. Comunque stavamo bene insieme, capito, eravamo molto compatibili. Cioè parli di chimica? Sì, di chimica, di un po' di tutto. Comunque lei faceva le sue cose, faceva le mie cose, no? Però vi sentivate entrambi liberi, cioè non vi soffocavate uno con l'altro? Cioè è stata la mia prima relazione con una, diciamo, famosa, no? Quindi lei faceva la sua roba e faceva la mia, no? Non era tipo la ragazza aggrappata alla mia vita, alla mia carriera, no? La prima ragazza di cui hai parlato che era gelosa, adesso che stavi con un'altra persona che aveva anche lei le sue dinamiche, eri geloso? Ti faceva soffrire o lo accettavi e lo capivi? Ma io ero molto geloso, sono sempre stato molto geloso, davvero sicuro. Però adesso proprio sono, tipo, diventato un'altra persona da questo punto di vista. Nel senso che adesso… Sì, no, Taylor mi ha fatto cambiare molto su questa roba della gelosia. Ti ha fatto crescere, ti ha fatto maturare da quel punto di vista? Non so se è un crescere o un cambiare, perché comunque essere geloso non… Cioè, troppo geloso sì, ok, però è un… Cioè non penso che quando cresci diventi meno geloso. Diventi più maturo, quindi reagisci e interpreti in maniera diversa. Sì, 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 no, certo, certo. Non cambia la tua indole, cambia il tuo modo di agire rispetto a quella cosa. No, quello sì, 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 sì. Io comunque stavo molto bene con Taylor, forse ero anche… Cioè, mi ricordo quando gli dissi che gli avevo messo le corna e mi visi a piangere, no? Quindi, cioè… Eri dispiaciuto? Eri dispiaciuto, cioè non mi andavi… È stata la storia più importante della tua vita? Non lo so, ma non voglio dire, non voglio mettere etichette perché… Ok, va bene. Quella più tira e molla, sì. Ok. E… Invece con la ragazza successiva? Cioè, per tre mesi sono stato con una e con l'altra. Quindi dico a Taylor, guarda, è successa questa cosa, blibli, blibli, blabla, mi metto a piangere, lei mi fa… tranquillo, tipo… può succedere, no? Come ti perdono, no? Tipo quella era… cioè io gliel'ho detta piangendo, cioè era un mio sentimento reale, però era tipo ci dobbiamo lasciare, no? E lei mi disse tipo no, ma non fa niente, tipo no, non fa niente, però tipo come per dire va bene, non importa, no? Ci siamo lasciati, è stato un anno con lei e era più una cosa, secondo me, un'ossessione tipo a livello… era più tipo una cosa piace a tutti, a tutto il mondo, ma a me no, non so come dire, ma la faccio andare bene, non so come dire, cioè mi piaceva molto il contorno, la vedevo diversa, quindi dicevo questa potrebbe essere una ragazza giusta perché è diversa dalle altre, cioè tipo… la vedevo molto diversa, molto improntata, però comunque fisicamente, cioè sessualmente non ero attratto, quindi io sono uno molto attivo, non c'era quella cosa, tant'è che minchia dicevo ma è possibile che, cioè nel senso, sto invecchiando, mi sono iniziato a fare paranoia, tipo ma che cazzo… Ma lì non c'è un razionale se è una cosa che senti dentro di te, non esiste un motivo logico. Mi piaceva tutto tranne… però non c'era… Non c'era la chimica. Non c'era la chimica, capito, quindi ovviamente se non c'era la chimica, no? Io però continuavo ad andare avanti, anche se non c'era la chimica, tipo magari facevo le mie cose… Clandestine. Clandestine. E fin quando lei non mi ha lasciato, si è messo un altro ragazzo e è stato tipo la prima ragazza che mi ha lasciato, no? Quindi quella cosa tipo nell'orgoglio proprio tipo mi ha ammazzato, cioè sono stato malissimo io. Cioè è la volta che sono stato più male di tutte per amore, tra virgolette, se vogliamo capire l'amore. Più che altro perché riferito nell'orgoglio. Minchia, proprio malissimo, capito? Cioè… Oggi sei innamorato? No. Qual è il sogno dell'amore che tu hai nella tua testa? Cioè come lo configuri l'amore? Qual è l'amore che vorresti realmente vivere? Penso che bisogna essere predisposti per l'amore. Cioè tipo io comunque adesso non… Sto con una ragazza, adesso ci sto molto bene, ne voglio tantissimo bene, però non ti posso dire che è amore, cioè nel senso… Non lo so, non penso che ti puoi innamorare più di… Non lo so, non te lo so dire. Lei sa che non l'ami? Ma non ne abbiamo mai parlato, ma… Non te lo chiede? No, non me l'ho mai chiesto. E tu non l'hai mai detto ti amo perché non lo pensi o… No, stiamo insieme da poco. Una storia fresca. Una storia fresca, quindi… Però l'amore è difficile dare una definizione, credo che la migliore definizione è la sensazione che hai dentro di te. È inequivocabile, difficile non capirla, quindi vuol dire che non è successo, succederà? No, penso che sono stato innamorato, cioè nel senso credo che sono stato innamorato perché comunque ho fatto pazzia, cioè andare sotto casa magari del manager, tipo spacca, tipo mo se hanno scendito a mazzo, tipo non hanno scendo, cazzotti che il vetero è scoppiato, va fermato tipo con muratore, no mi chiamiamo con le guardie e boom, cazzotti in bocca al muratore. Andiamo sull'argomento della violenza, perché prima ho detto mi sembra che per te la violenza sia un senso di giustizia, quindi il tuo modo di reagire a un'ingiustizia che hai subito, però non conosco i dettagli. Tu prima quando ti parlavo della musica mi hai detto vorrei che la gente parlasse meno, ma parlasse più della musica, io parlavo della musica perché sei troppo abituato a delle persone o a te che hai servito sul piatto d'argento dei fatti riguardo quell'argomento. Perché ti succede? Cos'è che ti fa scattare la rabbia dentro di te? Ma io non so, ho sempre avuto sta rabbia dentro, ecco appunto la psichiatra mi ha detto che forse proveniva da questa aggressività di mia madre quando ero piccolo, comunque mia madre è una molto dolce, però è molto pure tipo, capito che dico? Tipo fai questo, citofrono, papri! Cioè sta, non so come dire, una volta gli hanno rubato il portafoglio in metro, ha preso la zingara, per i capelli l'ha portata fino al negozio di mio padre, l'hanno sequestrata all'ammo, finché non ci riporti il portafoglio rimani qua, cioè è tosta mia madre, cioè è dura, no? Però sta rabbia che c'ho dentro non lo so, ma mi viene proprio… Il problema è che quando… C'è un po' un demone, non so come dire, tipo tutto il genere… Perché io oggi ho parlato con Tony, forse il 99% del Tony, il Tony dolce, la persona che tu sei, no? Dove non si è evinta mai questa rabbia qua, e credo che questa rabbia non ti renda più forte dominando gli altri, ma ti renda molto più debole invece. Sì, sì, sì. Rischia di andare a intralciare tutto il bello che costruisci facendoti un deretano quadrato Poi la gente che mi conosce realmente è molto poca, cioè tutto quello che vedono sui social… Sì, fa parte del personaggio, quello che vuoi mostrare tu. No, 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 è la mia parte divertente, oppure quando sto fomentato, capito? Ma non… Ovviamente se devo dire una cosa seria, ecco, dovrei usare più magari i social per questo, se devo dire una cosa seria, comunque non la dico sui social, no? Penso che i social siano più tipo un posto per scemi, no? Non so come dire. Sì, è una vetrina, poi ognuno la gestisce come vuole. Sì, 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 esatto. Se devo dire una cosa seria, magari a un mio amico gliela dico, non so come dire, non la espongo sui social, no? Io quando ti dicevo è il personaggio, perché normalmente il social lo si utilizza molto per voler apparire nel migliore dei modi, ma poi l'intimo vero si evince poco. Sì, che poi non è il migliore dei modi, non è il migliore dei modi, cioè per quanto mi riguarda non è… Questo sicuramente. Però va bene così, cioè nel senso… Però oggi la riesci a gestire la rabbia o no? Allora, quando hai quella cosa, nel senso… Non te la so spiegare, cioè i miei amici mi dicono… Cioè tutti pensano i miei amici dicono, ti sei papà, nel senso comunque sono uno molto… Però cioè sono un… Boh, dottor Jagger e Mr. Hyde ogni tanto proprio… Ti racconto di me, no? Io sono nato a Parigi, ci ho vissuto per 18 anni e io sono nato in una famiglia molto benestante, ok? Però a me non piaceva frequentare i… Mi spiace classificare i figli di papà, però erano noiosissimi. Sì, sì, ma così so. E quindi io mi trovavo benissimo a vivere in un altro ambiente, ok? Quindi la mia giornata era in un totale, in un altro ambiente. E quella per me era la vita vera, era quella senza filtri, quella reale, dove conoscevi le persone realmente per com'erano e mi piaceva molto. E quindi lì mio padre, quando ero piccolo, mi ha picchiato molto, quindi un po' l'aggressività di tua madre e questo mi ha ovviamente condizionato la rabbia. Quindi io quando vedevo ingiustizia, vuol dire qualcuno che menava uno più debole, mi mettevo sempre in mezzo. Sì, anche io. L'ultima volta in cui l'ho fatto, c'è stata mia moglie, si è spaventata, le ho promesso che non l'avrei più fatto, sono passati tantissimi anni. Ma io di base, quando subivo un'ingiustizia personale, facevo proprio fatica, lì era come un toro che annusava il profumo del sangue. Ed è molto sbagliato. Perché lì avrei potuto mettermi in scacco tantissime volte nella vita per tutto quello che ho costruito e quindi ho capito una cosa, che io sono fatto così e l'unico modo per non reagire è evitare qualsiasi persona o situazione, perché le conosco, le riconosco già a distanza le cose che mi intesiscono e quindi ci sto lontano. E oggi ti dico che non lo so, non l'ho mai provato, ma potrei anche incassare uno schiaffo, semplicemente perché mi concentrerei sull'obiettivo in quel momento, che è quello di non avere più quella persona nella mia vita, non di fargli vedere che lo sto dominando. Però questo è avvenuto negli anni, io ho fatto un percorso che si chiama Hoffman, dove nel 2008-2009, quindi ci ho lavorato, mi alleno tutti i giorni su quella sensazione lì. Mi è risuccessa una piccola frizione qualche anno fa, che era successa una cosa a mia figlia dove l'hanno derubata, quindi lì sai ti toccano i fini, ma anche su quello devi cercare sempre di usare il cervello. E' un allenamento, però poi alla fine qual è il tuo obiettivo della vita? Essere felice, cercare di far sì che nulla ti possa togliere quello che credi di meritarti, o perlomeno quello che tutti i giorni cerchi di mettere in campo. In quei casi poi stai male i giorni, nel senso non stai bene. E io mi pentivo tanto, quando succedeva che io reagivo, ormai sono passati tanti anni, stavo male, cioè andavo a chiedere scusa alla persona perché mi rendevo conto che ero diventato una bestia feroce e non era quello che volevo essere, mi vergognavo, ecco questo ti devo dire. Io la violenza l'ho vista sempre come, ecco per esempio, un esempio stupido, parchetto da ragazzino, senza soldi, senza canne, vado dal pusher di turno, no ma ciao, a me c'ero di fumo, ti ripago domani, eh no no no, il giorno dopo, senza soldi, senza canne, quanti venti dammi di tutti, sei andato a mazzo, cioè alla fine ottenevo le cose, come ti posso dire, quindi alla fine con la violenza ho sempre ottenuto le cose, in un modo o nell'altro, mi devi dare mille euro, se non mi porti mille euro ti do due schiavi e ti vengo a caccia, cioè alla fine i soldi le ottenevo le cose, quindi c'è un po' quella cosa con la violenza, no, tipo tu mi stai a fare un torto da mafioso, da scrivania, io te lo faccio, io prendo la mia cosa con la violenza, no. Lil Pump si chiama e l'artista con cui hai avuto una reazione o no? Sì, no, ma beh, l'è andata che finisco il concerto, l'avevo un po' bevuto io, ok, però ero tranquillo. Era il nameless, giusto? Era il nameless, sì, il mio manager mi fa, Gianmarco mi fa, c'è Lil Pump, bla bla bla, vuoi fa una foto, ti faccio una foto, frega un cazzo sinceramente. Mi fa, no, ma perché, dai, tipo, vabbè, dai. Lui parla con il manager di Lil Pump e gli dice, il manager di Lil Pump, guarda, fai uscire tutti i ragazzi dal camerino di Tony che Lil Pump è un po' sociopatico e rimangono loro due insieme. Io faccio uscire tutti i miei amici del ragazzo che sta, viene Lil Pump, aspetto cinque minuti, il tipo non viene, tipo esce dal camerino facendo tipo fa, tipo, comunque non ha portato risposta, rispetto, ecco. E volevo capire cosa ti aveva fatto scattare, era quella la cosa che volevo capire. Io mi sono messo a disposizione tutto, lui comunque sta in Italia, cioè io se vado in America a fare un concerto dunque non è che faccio il figlio, cioè apparto rispetto, no, anche al più scemo, ma dovunque vado. Ti ha ferito nell'orgoglio. Detto questo, vieni in Italia, fai il coso, faccio uscire tutti il camerino, esce, faccio, faccio, cioè, capito, tipo, rimettiamolo, cioè, insegniamogli l'educazione, tipo, era quella la cosa. Poi col fatto che se non avevo bevuto sinceramente non avrei fatto niente, poi avevo bevuto, quella cosa mi ha fatto sbroccati, tutto me l'ammazzo. Ci stai lavorando adesso per riuscire a controllarti in quei momenti o no? No, un po' mi piace anche quella roba, dico la verità. Qual è la parte che ti piace? Ti fa sentire… Boh, non so, un po' la violenza mi piace, un pochino mi piace. Cioè, anche prendere botte mi piace un po'. Cioè, quando ando in palestra comunque prendo i cazzotti, mi piace. Però lì sei in un perimetro con le regole, è un'altra storia. Sì, è un'altra storia, no? Cioè, mi piace in senso… Cioè, con me non devi sbagliare, io sono buono, cioè, io ti do tutto, capito? Non mi piace quando la gente pensa che sono scema, capito? Perché non ho visto il doppio di te, capito? Cioè, ti faccio un culo così in tutti i modi, con le mani, con quello, con quell'altro, con la testa, no? Quindi quando pensano che sono scemo, oppure che, non lo so, che possono approfittarsi di me, quella cosa mi fa andare in bestia, scatta la violenza. Io ho provato a portarti un esempio su di me, ma non voglio condizionarti, perché è una conclusione tosta la tua, il fatto di dire comunque un po' mi piace la violenza, però io non lo posso giudicare. Cioè, quando faccio quelle cose sono pentito, però dentro di me c'è una parte che mi dice bravo, hai fatto bene, capito? Sono sicuro che passando gli anni sarà… capirai che poi il vero scopo della vita è un altro, no? La vera vittoria è un'altra. No, ma sicuramente anche per… E non essere stato debole, essere caduto in quella tentazione. No, ma io lo so, purtroppo il problema è che ne sono consapevole, no? Come tutte le cose, io sono molto consapevole di tutto, di quello che sbaglio, di… ho cambiato tante cose, cioè, molte cose, ci sono… Sei migliorato in tanti aspetti. Sì, è molto più lucido, molto, molto più lucido. Chiaro. Parliamo di filantropia, nel senso, ti parlo di un argomento che mi è stato detto da una persona a te vicina, perché tu non lo dici mai. E quindi intendo beneficenza, aiutare il prossimo. Non ti piace raccontarlo, però a me ha toccato, perché vedi, poi dopo c'è questa tua anima bella. Voglio sapere se ti va di parlarne. Sì, guarda, un esempio più semplice è tipo quando ando in vacanza con i miei amici, no? Magari, ecco, per dirti… Faccio sempre quello che vogliono fare gli altri, voglio che tutti stiano bene, tranne… Cioè, se andiamo in vacanza io, te e lei, l'importante è che voi due state bene, non so come dire, no? Quindi, tipo… Ma lo so, faccio le cose per gli altri, cioè, di base. Non faccio mai le cose per me. Cioè, mi piace… Vedere gli altri felici. Cioè, pure un fan che magari… Ecco, per dirti quei fan, tante… Quando vedo proprio un fan, quello tipo che mi guarda con quegli occhi, mi dice tipo… Minchia, l'abbraccia gli… Mi piace farci due chiacchiere, no? Proprio una cosa che mi riempie, no? Quelle sono le piccole cose che mi riempiono… Mi collego all'argomento della violenza e dando tutto, quando qualcuno poi ti addita, ti attribuisce un qualcosa che non ti appartiene, come una persona cattiva o altro, soffre perché dice, minchia, io do tutto. Quindi io capisco questo. Però quando parlavo di filantropia, adesso parlavo di soldi, inteso. Non tanto sacrificarti per il prossimo o comunque non che sacrificarti, ma adeguarti per far felici gli altri. Io parlo proprio di aiutare economicamente gente, nel senso che so che tu lo fai spesso, che adesso non conosco i fatti precisi, ma so che lo fai spesso. Sì, più che beneficenza… Più che beneficenza, aiuti a persone. Sì, aiuto gente che mi sta vicino, sì, molta gente che mi sta vicino. Però quella è una cosa un po' dovuta da noi, nel senso, se il mio amico fosse Tony F, chiunque avrebbe fatto lo stesso, capito? Noi siamo un po' così, tipo è dovuto che io, che il mio amico deve lavorare con me, non so come di. Cioè è dovuto che deve stare con me, che me lo devo portare. In un certo senso è così, anche se la realtà dei fatti non è quella, ma è un po' così. È un po' tutto dovuto, capito? Perché chiunque avrebbe fatto lo stesso. Ti avrei fatto una domanda collegata a questa cosa, nel senso, tu oggi, per quelli con cui sei cresciuto, hai fatto i soldi. Ok? Definiamolo in modo semplicissimo. Sì, sono ricco, sì. Sei ricco, mettiamola così. Questo è un plus o un malus? Cioè ti vedono come uno che ce l'ha fatta e fanno il tifo per te, o ti vedono come uno, appunto, un po' come stavi adesso dicendo che comunque, visto che ha avuto più fortuna degli altri, meritata sicuramente perché la fortuna non è che hai vinto alla lotteria, e quindi devi aiutare il prossimo. Cioè come funziona questa cosa? È una critica o è un inno, un incoraggiamento, il fatto che tu sia diventato ricco rispetto all'ambiente in cui sei cresciuto? No, è un incoraggiamento. Ok. Lo senti questo che sono fieri di te? Sì. Ovviamente hai sempre dei detrattori, ma questa è la legge della vita. Ovviamente i miei amici veri, sì, sono contenti per me e io cerco di farli essere contenti anche a loro, in qualche modo. Ci provo, che poi non ci riesco mai, ti dico la verità, però ci provo. Siamo arrivati alla fine. Il tuo personaggio, la tua carriera artistica, quello che fai per vivere nel mondo artistico, ti piace ancora o ti sta stretto? Beh, diciamo che tante volte non vorrei essere tipo Tony F. Ci sono giorni che voglio essere una persona normale, per dirti. Ok. Invece prima ero proprio tipo… ogni giorno mi svegliavo e cazzo sono Tony F, capito? Sì. Invece adesso… non lo so, comunque… prima ero più felice, cioè ero proprio diverso, non so come dire. Con il successo… anche forse per come vedo gli amici, per come si relazionano a me, non lo so. Mi sento più solo rispetto a prima, no? Prima eravamo tutti insieme, eravamo tutti una stessa cosa. Non ti parlo della Dark, sì, anche con la Dark, dico proprio di amicizia. Anche Roma, cioè, è la tua città. Sì, sì, con questo a me, sì, sì. Adesso comunque sei staccata e hai cambiato vita, quindi ovviamente ti mancano i punti di riferimento. Sì, sì, sì. Ok. Tu hai detto che quando eri piccolo non ridevi mai, non sorridevi mai. In questa intervista hai accennato tanti sorrisi, sei rimasto composto però dolce. Sei felice? Nel senso, è un bel periodo della vita o no? O sei uno che è incazzato e arrabbiato? Sì, incazzato e arrabbiato, sì. Per status o proprio perché lo senti dentro? Ma non sono felice, non so perché, non c'è un motivo. Non vorrei che, non so cosa vorrei, però non sono felice. Ok. A tratti, cioè, la felicità comunque sono momenti. Sono momenti, sicuramente. Ecco, quando sto con i miei amici a Roma, a sputarsi a doce, non so come dire, a fare quello che facevate prima, cioè cose semplici. Sono tranquillo, sono felice. Lì sei felice? Sì. Ok. Però è comunque tipo, è come se non voglio avere responsabilità, cioè non so come dire, no, quindi quella roba è un po' roba da bambino, no? Però vorresti avere un figlio. Sì, voglio avere una famiglia sicuramente, cioè, il problema è che non la voglio, non voglio un figlio da vecchio, capito? Quindi, insomma, devo... Sì, non devi neanche farlo per forza, perché lo devi avere, quindi sono quelle cose come l'amore che devono succedere. Sì, sì, però mia madre mi dice anche, mia madre mi dice, guarda il figlio comunque è tuo, cioè, nel senso, con chi lo fai lo fai comunque è tuo figlio, no? Diverse filosofie da questo punto di vista. Concludo con un'ultima domanda. Ti voglio chiedere cosa vedi in futuro, cosa vorresti ottenere? Guarda, forse una... perché alla fine non mi manca niente, capito? Quindi, forse ti dico l'amore, la famiglia, insomma, una cosa... Quella roba che ti riempie, poi, realmente, insomma, le vere felicità della vita, poi. Fare un figlio, che è la cosa più bella, penso, del mondo, no? Te lo confermo. Una figlia, figlio, quello che è. Penso che quello è il passo che ti faccia crescere, ti faccia diventare uomo. Se no, mi vedo, tipo, fra dieci anni ancora un po' tipo... che va cercando qualcosa, cioè, non so come dire, no? Abbiamo finito. Grazie, Tony. Grazie. Grazie a tutti.